La seduta è ripresa. Comunico l'esito della seconda votazione. Numero di votanti 704. Schede bianche o nulle 37. Voti espressi 667. Maggioranza assoluta necessaria per elezione 334. I candidati hanno ottenuto i seguenti voti. Onorevole Keller 119 voti. Onorevole Rego, 43 voti. Onorevole Sassoli, 345 voti. Applausi. Applausi. Onorevole Zaradil, 160 voti. L'onorevole Sassoli ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. L'onorevole Sassoli è il nuovo Presidente del Parlamento europeo. Mi congratulo per la sua elezione. Le borgo i migliori auguri per il suo mandato. E la invito ad assumere la Presidenza del Parlamento europeo. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Cittadine e cittadini dell'Unione europea, signore e signori parlamentari, colleghe e colleghi, cari amici, rappresentanti delle istituzioni, dei governi, donne e uomini di questa amministrazione, tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la Presidenza del Parlamento europeo e di essere stato scelto da voi a rappresentare l'istituzione che più di ogni altra ha un legame diretto con i cittadini, che ha il dovere di rappresentarli e anche di difenderli e di ricordare sempre che la nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo conquistare e della solidarietà che sapremo sviluppare. Permettetemi di ringraziare il Presidente Antonio Tajani per il lavoro che ha svolto, per il suo grande impegno, la sua dedizione a questa istituzione. Grazie mille. Voglio anche dare il benvenuto ai parlamentari confermati, alle donne, che rappresentano il 40% di tutti noi. È un buon risultato, ma noi vogliamo di più. In questo momento, al termine di un'intensa campagna elettorale, ha inizio una legislatura che gli avvenimenti caricano di grande responsabilità, perché nessuno può accontentarsi di conservare l'esistente. Ce lo dice il risultato elettorale, ce lo testimoni anche la composizione di questa Assemblea. Siamo immersi in trasformazioni epocali, disoccupazione giovanile, migrazioni, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali, solo per citare alcune delle grandi questioni, che per essere tutte governate hanno bisogno di nuove idee, del coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo di audacia. Dobbiamo recuperare lo spirito dei padri fondatori, lo spirito di Ventotene, di coloro che seppero mettere da parte le ostilità della guerra, porre fine ai guasti del nazionalismo dandoci un progetto capace di coniugare pace, democrazia, diritti, sviluppo e uguaglianza. In questi mesi in troppi hanno scommesso sul declino di questo progetto, alimentando anche divisioni e conflitti, che pensavamo essere un triste ricordo della nostra storia. I cittadini hanno dimostrato invece di credere ancora in questo straordinario progetto, l'unico in grado di dare risposte alle sfide globali, alle sfide che abbiamo di fronte. Dobbiamo avere la forza di rilanciare il nostro processo di integrazione, cambiando la nostra unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esigenze dei nostri cittadini e per dare risposte vere alle loro preoccupazioni, al loro sempre più diffuso senso di smarrimento. La difesa e la promozione dei nostri valori fondanti di libertà, dignità, solidarietà deve essere perseguita ogni giorno, dentro e fuori l'Unione europea. Cari colleghi e cari colleghi, pensiamo più spesso al mondo che abbiamo il dovere di vivere e alle libertà di cui godiamo. E allora diciamolo noi, visto che ad altri, ad est, a ovest, a sud, fanno fatica a riconoscerlo che tante cose ci fanno diversi, non migliori, ma diversi, e che noi europei siamo orgogliosi delle nostre diversità. Ripetiamolo, perché siamo sia chiaro a tutti che in Europa nessun governo può uccidere, e questa non è una cosa banale, che il valore della persona e la sua dignità sono il nostro modo di misurare le nostre politiche, che da noi in Europa nessuno può tappare la bocca agli oppositori, che i nostri governi, le nostre istituzioni che li rappresentano sono il frutto della democrazia, di libere scelte, di libere elezioni, che nessuno può essere condannato per la propria fede religiosa, politica, filosofica, che da noi ragazze e ragazzi possono viaggiare, studiare, amare, senza costrizioni, che nessuno europeo può essere umiliato, emarginato per il proprio orientamento sessuale, che nello spazio europeo, con modalità diverse, la protezione sociale è parte della nostra identità. Il nostro modello di economia sociale di mercato va rilanciato. Le nostre regole economiche devono saper coniugare crescita, protezione sociale, rispetto dell'ambiente. Dobbiamo dotarci di strumenti adeguati per contrastare le povertà, dare prospettive ai nostri giovani, rilanciare investimenti sostenibili, rafforzare il processo di convergenza fra le nostre regioni e i nostri territori. La rivoluzione digitale sta cambiando in profondità i nostri stili di vita. Il nostro modo di produrre e di consumare. Abbiamo bisogno di regole che sappiano coniugare progresso tecnologico, sviluppo delle imprese, tutela dei lavoratori e delle persone. Il cambiamento climatico ci espone a rischi enormi, ormai evidenti. Servono investimenti per tecnologie pulite per rispondere ai milioni di giovani che sono scesi in piazza e alcuni sono venuti anche qui in quest'Aula per ricordarci che non esiste un altro pianeta. Dobbiamo lavorare per una sempre più forte parità di genere e un sempre maggiore ruolo delle donne ai vertici della politica, dell'economia e del sociale. Signore e signori, questo è il nostro biglietto da visita per un mondo che non ha regole, che deve trovare regole e che noi vogliamo aiutare ad avere regole. Ma tutto questo non è venuto per caso. L'Unione europea non è un incidente della storia. Io sono figlio di un uomo che a vent'anni ha combattuto contro altri europei. E sono figlio di una mamma. Anche lei, a vent'anni, ha lasciato la propria casa e ha trovato rifugio presso altre famiglie. Io so che questa è la storia anche di tante vostre famiglie. E so anche che se mettessimo in comune le nostre storie e ce le raccontassimo davanti a un bicchiere di birra, non diremo mai che siamo figli o nipoti di un incidente della storia. Ma diremo che la nostra storia è scritta sul dolore, sul sangue dei giovani britannici sterminati sulle spiagge della Normandia, sul desiderio di libertà di Sophie Hans Scholl, sull'ansia di giustizia degli eroi del ghetto di Varsavia, sulle primavere represse con i carri armati nei nostri paesi dell'Est, sul desiderio di fraternità che ritroviamo ogni qualvolta la coscienza morale impone di non rinunciare alla propria umanità e l'obbedienza non può considerarsi una virtù. Non siamo un incidente della storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo tutti innamorati dei nostri paesi, ma il nazionalismo che diventa ideologia e ideolatria produce virus che possono produrre conflitti distruttivi. Colleghe e colleghe, abbiamo bisogno di visione e per questo serve la politica. Sono necessari i partiti europei sempre più capaci di essere l'architrave della nostra democrazia, ma dobbiamo dare loro anche nuovi strumenti. Quelli che abbiamo sono insufficienti. Questa legislatura dovrà rafforzare le procedure per rendere il Parlamento europeo protagonista di una completa democrazia europea. Ma non partiamo da zero, non nasciamo dal nulla. L'Europa si fonda sulle sue istituzioni, che seppure imperfette e da riformare ci hanno garantito le nostre libertà, la nostra indipendenza. Con le nostre istituzioni saremo in grado di rispondere anche a tutti coloro che sono impegnati a dividerci. E allora diciamolo oggi in quest'Aula, all'inizio di questa legislatura, che il Parlamento sarà garante dell'indipendenza dei cittadini europei e che solo loro sono abilitati a scrivere il proprio destino. Nessuno per loro, nessuno al posto, al posto nostro. In quest'Aula, insieme a tanti colleghi e colleghe con molta esperienza, vi sono anche tantissimi deputati alla prima legislatura. A loro un cordiale saluto di benvenuto. Ho letto molte delle loro biografie e mi sono convinto si tratti di una presenza molto positiva. il 63% di questo Parlamento sono parlamentari di prima legislatura. Molti di loro sono impegnati in attività sociali, hanno grandi competenze, grandi professionalità. Tanti sono impegnati anche nella protezione delle persone. E questo è un campo su cui l'Europa deve migliorare, perché abbiamo il dovere di governare fenomeni nuovi. Sull'immigrazione. Vi è troppo scaricabarile fra governi e ogni volta che accade qualcosa siamo impreparati e si ricomincia da capo. Signori del Consiglio europeo, questo Parlamento crede che sia arrivato il momento di discutere la riforma del regolamento di Dublino che quest'Aula, a stragrande maggioranza, ha proposto la scorsa legislatura. A stragrande maggioranza. Lo dovete ai cittadini europei che chiedono più solidarietà fra gli Stati membri. Ma lo dovete anche alla povera gente per quel senso di umanità che non vogliamo smarrire e che ci ha fatto grandi agli occhi del mondo. Molto, signori del Consiglio, è nelle vostre mani. E con responsabilità non potete continuare a rinviare le decisioni, alimentando sfiducia nelle nostre comunità, con i cittadini che continuano a chiedersi ad ogni emergenza dov'è l'Europa, cosa fa l'Europa. Questo sarà un banco di prova per superare e sconfiggere tante pigrizie e troppi egoismi. E ancora, Parlamento, Consiglio e Commissione devono sentire il dovere di rispondere con più coraggio alle domande dei nostri giovani quando chiedono a gran voce che dobbiamo svegliarci, aprire gli occhi, salvare il pianeta. Mi rivolgo a loro. Considerate questo Parlamento che oggi inizia la sua attività come il vostro punto di riferimento. Aiutateci, anche voi, ad essere più coraggiosi per affrontare le sfide del cambiamento. Voglio assicurare al Consiglio e alle Presidenze di turno la nostra massima collaborazione. E lo stesso rivolgo alla Commissione e al suo Presidente. Le istituzioni europee hanno la necessità di ripensarsi e di non essere considerate un intralcio alla costruzione di un'Europa più unita. Tramite il Presidente del Consiglio europeo voglio rivolgere anche un saluto a nome di quest'Aula ai capi di Stato e di Governo. 28 Paesi, 28 Paesi che fanno grande l'Unione europea. E si tratta di 28 Stati, dal più grande al più piccolo, che custodiscono tesori unici al mondo. Tutti vengono da lontano, posseggono cultura, lingua, arte, paesaggio, poesia, che sono inimitabili e inconfondibili. Sono il nostro grande patrimonio, il patrimonio che merita il rispetto di tutti. Ecco perché quando andrò a visitarli a nome vostro non sarò mai distratto e davanti alle loro bandiere, ai loro inni, sarò sull'attenti anche a nome di coloro che in quest'Aula non mostrano analogo rispetto. Lasciatemi infine rivolgere un saluto ai parlamentari britannici. Comunque la pensino sulla Brexit. Per noi immaginare Parigi, Madrid, Berlino, Roma, lontane da Londra, è doloroso. Sì, sappiatelo. Con tutto il rispetto che dobbiamo per le scelte dei cittadini britannici. Per noi europei si tratta di un passaggio politico che deve essere portato avanti con ragionevolezza, nel dialogo e con amicizia, ma sempre nel rispetto delle regole e delle rispettive prerogative. Voglio salutare anche i rappresentanti degli Stati che hanno chiesto di aderire all'Unione Europea. Il loro percorso è avviato per loro libera scelta. Tutti capiscono quanto sia conveniente far parte dell'Unione Europea. Le procedure di adesione proseguono e il Parlamento si è detto più volte soddisfatto dei risultati raggiunti. Infine, un in bocca al lupo a tutta l'amministrazione e ai lavoratori di questo Parlamento. Ci siamo dati un obiettivo nella scorsa legislatura, far diventare il Parlamento europeo la casa della democrazia europea. Per questo abbiamo bisogno di riforme, di trasparenza, di innovazione. Molti risultati sono stati raggiunti, specie sul bilancio, ma questa legislatura dovrà dare impulso maggiore. Per fare questo c'è bisogno di maggiore dialogo fra parlamentari e amministrazioni e sarà mia cura svilupparlo. Cari colleghi e cari colleghi, l'Europa ha ancora molto da dire se noi e voi sapremo dirlo insieme, se sapremo mettere le ragioni della lotta politica al servizio dei nostri cittadini, se il Parlamento ascolterà i loro desideri, le loro paure, anche la loro rabbia, ma soprattutto le loro necessità. Sono sicuro che tutti voi saprete dare il massimo contributo per un'Europa migliore, che può nascere con noi, con voi, se sapremo metterci cuore e soprattutto ambizione. Grazie. Grazie.